Sarà incoronata ed esposta alla pubblica venerazione nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Si tratta dell'icona della Vergine Maria, Madre della Misericordia, voluta dai poveri e dai volontari della Piccola Casa della Misericordia di Gela, come omaggio alla Vergine Maria per il dono dell'anno giubilare della Misericordia. L'icona rappresenta la Vergine Maria che mostra Gesù, Misericordia del Padre, ed il grembiule segno identificativo del servizio del Cristo e di Misericordia verso il prossimo. L'immagine sacra dal 13 novembre scorso, a conclusione del giubileo della Misericordia, è venerata sull'altare principale della Chiesa di Sant'Agostino, in Piazza Salandra, nel Centro di Spiritualità Nazionale della Misericordia. Un centinaio di gelesi, compresi alcuni poveri e volontari della Casa, il prossimo mercoledì 1 febbraio raggiungeranno Roma per partecipare all'udienza di Papa Francesco e alla celebrazione eucaristica nella Basilica Vaticana, dove si darà il rito dell'incoronazione della Sacra Icona, preseduta dal Cardinale Angelo Comastri, Vicario Generale di Sua Santità per lo Stato della Città del Vaticano e arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano. Il giorno dopo è prevista la festa della presentazione del Signore. Il Santo Padre, in quell'occasione, presiderà la solenne celebrazione eucaristica alla presenza della Sacra Icona. Domenica 5 febbraio alle 17.30 la Sacra Icona arriverà a Gela e verrà accolta nella chiesa di San Francesco di Paola. Subito dopo è prevista la processione. La celebrazione eucaristica di ringraziamento sarà preseduta dal Vescovo della Diocesi di Piazza Almerina, Monsignor Rosario Gisana. Appuntamento nella chiesa di Sant'Agostino, dove l'icona sarà ricollocata al suo posto.